Piazze, strade e palazzi, non una semplice riqualificazione della pavimentazione stradale, ma ciascuno dei 23 comuni abruzzesi del club dei comuni più belli d'Italia, rientrati nel Masterplan Abruzzo per la valorizzazione e lo sviluppo turistico, ha scelto accuratamente il proprio angolo da recuperare e riqualificare a modernare. Sono proprio i piccoli comuni i protagonisti di un progetto unitario che hanno presentato alla regione tutti insieme e che ha come obiettivo lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile attraverso il recupero delle aree interne e costiere di piccoli comuni appartenenti al club dei borghi più belli d'Italia. Interventi mirati con il finanziamento del Masterplan a recuperare angoli identitari dei borghi, luoghi storicamente importanti di cui nel tempo si è persa la memoria e che torneranno alla luce. Interventi che potranno aiutare anche il rilancio delle micro imprese locali che sono quasi sempre a conduzione familiare e artigianali. I 23 progetti sono stati presentati questa mattina all'emiciclo. Stringenti le tempistiche, la progettazione entro la fine di dicembre, mentre la realizzazione dovrà concludersi nel 2019 sotto lo stretto controllo di un comitato scientifico e tecnico. 140.000 euro per ciascun comune, per un totale di 3.200.000. Ci siamo dati anche un ordine gestionare sia dal punto di vista dei direttori dei lavori e di ciascun appalto che sarà affidato, ma soprattutto lo faremo come comitato tecnico scientifico perché andremo a verificare dove questi interventi saranno realizzati, qual è l'esito conclusivo e li presenteremo perché vogliamo far capire anche ai cittadini che vivono nei nostri borghi che abbiamo creato un ulteriore avanzamento dal punto di vista della valorizzazione ma che deve diventare patrimonio comune del borgo stesso, della comunità per far sì che sia ulteriormente protetto e valorizzato. Qui si tratta di un lavoro d'insieme, di una squadra che valorizza l'intero territorio regionale, la nostra comunità, le bellezze dell'Abruzzo, 23 comuni, i borghi più belli d'Italia che si mettono insieme propongono un progetto unitario per valorizzare alcune loro caratteristiche che sono all'interno di ogni singolo comune. Intanto i comuni si preparano anche ad accogliere i turisti per le festività natalizie. Noi abbiamo un calendario di eventi che pubblichiamo sul sito nazionale del club dei borghi più belli d'Italia chiaramente anche per il Natale che è oramai alle porte abbiamo un programma fitto che in alcuni casi già abbiamo inaugurato dall'8 dicembre e che continuerà ad esserci fino al 6 gennaio.